Alexeyes Argy Lagos Alex o Argy, però Alex, ormai mi chiamano tutti Alex Età? Fatte o quelle che devo fare? Diciamo 45 La mia storia palavolistica in tutta la mia vita o in questi molto, molto, molto molto abbondante e interessante sportivamente non la posso raccontare troppo lunga Il mio miglior pregio è una simpatia sorrido sempre Il mio peggior difetto il mio peggior difetto lo nascondo molto vero ma sono molto permaloso Sì, sono molto contento molto molto felice Eh beh, il mio peggio migliore dipende se ne faccio la vita o parla politicamente Della stagione precedente che arriva se tutto va bene mi aspetto di avere delle nuove e belle soddisfazioni Della stagione precedente e il mio motto è una malata Grazie 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 Grazie